story time evoluzione radio ben ritrovati amici dei social di story time io sono claudio degli studi di history time di bologna qui dove le storie sono le protagoniste è tornata a trovarci marina rossi life coach e insegnante di yoga intanto ciao marina bentrovata come stai ciao buongiorno molto bene grazie marina per chi si fosse perso la tua prima intervista ti chiedo di fare una brevissima tua presentazione sì io sono insegnante di yoga ormai da molti anni e negli ultimi anni più recenti invece sono life coach immaginale ho fatto questa formazione che mi ha permesso di imparare a aiutare le persone e di unire diciamo così la mia esperienza nello yoga della meditazione con gli strumenti del life coaching immaginale che è una cosa un po particolare rispetto al life coaching tradizionale ecco marina oggi sei venuta a parlarci nello specifico del cambiamento esatto esatto introduci un po l'argomento diciamo che le persone vengono da me essenzialmente per affrontare il tema del cambiamento allora il cambiamento è una costante della vita lo sappiamo è inevitabile ma vediamo un attimo come le persone si approcciano al cambiamento e semplificando al massimo perché ovviamente ogni essere umano è unico possiamo distinguere tre categorie di clienti allora ci sono quelli che vengono da me perché vogliono cambiare qualche cosa di fondamentale nella vita lavoro situazioni varie relazioni ma hanno paura quindi hanno bisogno di ricevere strumenti incoraggiamento per fare questo salto nel vuoto poi c'è una seconda categoria che invece al contrario trova molta sicurezza nella stabilità e quindi è un po come dire sconvolta quando dall'esterno arriva qualche cambiamento inevitabile e vorrebbe mantenere lo status quo quindi la stessa routine la quotidianità lo la comfort zone esatto poi c'è una terza categoria incredibile ma diciamo che ho appartenuto anche a questa categoria per anni sono quelli che cambiano costantemente per non cambiare mai cioè cercano di cambiare le situazioni esterne il lavoro il partner ma in realtà non vanno mai a vedere dentro se stessi cosa c'è davvero da cambiare dentro se stessi ecco queste diciamo tre tipologie di clienti mi chiedono ovviamente cose diverse ma vediamo come io rispondo perché per affrontare il cambiamento nell'eccoci immaginale dobbiamo un po ribaltare il concetto solito dobbiamo evitare di pensarci come individui separati dagli altri con una certa identità con una certa come dire stabilità perché il cambiamento accade costantemente istante dopo istante ma non ce ne accorgiamo cioè la nostra mente collega le immagini che sono sempre diverse della nostra vita e ci fa credere diciamo che c'è una continuità in realtà se noi ci svegliamo ogni mattina siamo nuovi ogni mattina le persone intorno a noi sono qualcosa di diverso dal giorno precedente ma la mente cerca di aiutarci diciamo a ritrovare le stesse cose del giorno precedente è la sua funzione quindi è giusto che faccia questo diciamo questo compito ma se noi seguiamo solo la nostra mente non ci aiuta sicuramente a vivere la vita con maggiore serenità allora noi nella visione immaginale non siamo qualcuno di fisso e non siamo separati dal mondo ma siamo un flusso possiamo dire così un flusso di pensieri emozioni il flusso del respiro un flusso di sensazioni immersi nel flusso della vita anche la vita è un flusso che ci attraversa appunto attraverso il respiro e questa forza vitale che ci porta a fare esperienza e questo flusso che noi siamo è immerso in questo oceano gli antichi saggi ci parlano proprio di onde nell'oceano cioè noi siamo onde con una nostra individualità ma facciamo parte dell'oceano quindi abbiamo una nostra vita personale dove spuntiamo dall'oceano diciamo così abbiamo una certa altezza una certa qualità un certo tipo di di schiuma di aspetto poi ci rinmergiamo nell'oceano della vita ecco se noi proviamo a sentirci onde di questo oceano è più facile andare verso il cambiamento perché siamo aiutati dal flusso della vita a me piace usare anche la metafora del vento la vita come un vento che ci sospinge da dietro allora se noi ci adeguiamo a questo vento andiamo avanti dolcemente la vita ci spinge ci doveva un po' affidare se noi facciamo resistenza abbiamo paura o vogliamo andare in una direzione diversa da quella che la vita ci induce a prendere arriva la tormenta arriva la tempesta arriva il caos e ci sembra che qualcosa sia accaduto contro di noi in realtà è la vita che nei suoi modi ci suggerisce che quella direzione che abbiamo preso non è corretta per noi oppure quella situazione ferma dove noi vogliamo stare con i piedi piantati per terra è ora di cambiarla quindi la metafora del vento a me piace molto perché si collega anche al concetto del respiro del flusso vitale quindi se cominciamo a accorgerci giorno dopo giorno che c'è un vento una forza vitale una vita che ci accompagna e noi possiamo allearci con questa forza il cambiamento diventa più semplice scopriamo che qualcosa di più saggio di noi sa già qual è la nostra direzione io parlo di anima possiamo anche proprio usare semplicemente il concetto di vita di corrente della vita e questo è utile per tutte le tre tipologie che si è utile per tutte e tre tutte e tre perché ovviamente chi vuole andare verso il cambiamento anziché pensare di essere solo a dover decidere comincia sentirsi accompagnato e protetto dalla vita chi invece rimane fermo capisce che non può rimanere nella sicurezza che è una falsa sicurezza che crea la propria mente in realtà deve fare delle mosse e chi invece cambia cambia ma non va a vedere dentro prova ad ascoltarsi a sentire questo flusso dentro di sé a collegarsi con una parte più profonda anziché rimanere nella mente perché c'è da dire anche che la nostra mente ci inganna sui veri obiettivi della nostra vita cioè noi andiamo spesso verso i modelli sociali che ci fanno credere che dobbiamo essere in un certo modo raggiungere certi obiettivi siamo spesso condizionati da la famiglia la società tutto ciò il nostro ambiente e quindi la nostra mente spesso crea obiettivi che non sono in realtà quello che davvero noi vorremmo raggiungere marina ti chiedo dove lavori principalmente mi lavora reggio emilia e ho uno studio yoga dove insegno yoga dove faccio sedute individuali e a lavoro anche online faccio molte sessioni online marina ti ringrazio per essere venuta qui a story time di aver portato tante piccole pillole diciamo così e introdotto un argomento molto importante interessante quindi ti ringrazio grazie a te ringrazio anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando da un saluto e alla prossima storia story time evoluzione radio